ciao ragazzi eccoci il nuovo format di playlover Q&A c'è qui Steve con i pollici alzati che è pronto per la sua domanda esatto voi date le domande e noi pam le inviamo al nostro Luca e io le giro a Steve allora superare una delusione non riesco ad andare con le altre la penso ancora ogni giorno spesso e volentieri il fare sniffi sniaffi non produce l'effetto desiderato io lo so perché è così schiodo schiacciachiodo funziona solo se sei pronto io ho avuto spesso e volentieri situazioni relazioni dove mi sono lasciato e volutamente non ho voluto fare niente con altre ragazze per uno due tre mesi fino a quando non mi sentivo pronto anche questo no c'è la differenza di un uomo che è solo cioè istinto animale impulsi sessuali un altro che ha cervello e ha comunque abilità sociali no riuscire ad acquisire la lucidità giusta perché poi sta forse ancora più male perché salgono ancora più rimorsi no io capisco questa cosa probabilmente c'è qualcosa di insoluto tra voi un qualcosa che ancora non hai detto non hai strisciato abbastanza fare il verme a volte fare lombricare è sicuramente un ottimo modo io lo dico sempre cioè vuoi toglierti i cosi sfizi continua a fare il verme mandare altri fiori mandagli fino a quando senti che questa qua ti calpesta fino a quando proprio arrivi a raschiare il fondo del barile anni fa è stato così per me io non l'ho capita fino a quando a un certo punto la mia ex mi guarda mi fa ascolto io non ti amo più che cazzo devo fare io continuavo no io a tutto quel momento mi ero già umiliato è il problema è proprio il capire se veramente sei passato oltre come hai gestito tutta la relazione chiaramente e prenderti del tempo per te per riflettere per farti vivo continuare a fare il verme vedere come ti tratta imparare prenderti del tempo per migliorare per fare un po di meditazione per guardarti dei video per per lavorare in maniera da cattivo in maniera professionale non le cose che ti piacciono questo ti permette di accantonare il discorso ragazzi no vivo la mia vita cercando di cucire le ferite perché amico mio posso garantirti adesso questa cosa non ti farà né caldo né freddo però è così anche quando me la dicevano a me non ci credevo il tempo veramente guarisce tutto dimentichi le cose dimentichi io si ripensa questa qua la mia ex ai tempi stavo malissimo mi prendevo le gocce per calmarmi quando la vedevo perché lavorava nel mio stesso ristorante adesso di pensare mi sono pentito di essere saluti quegli anni insieme no con tutto è stato così anche con quello con cui stato molto male quindi impara a lavorare su te stesso e non fare schiacciacchiodo se non te la senti io preferisco invece trovarmi delle amiche uscire con ragazze senza per forza fare qualcosa di sì che può darti una mano vivere delle serate spensierate senza avere quella fissa fermo restando ripeto che se qualcosa di insoluto fai fai continua a fare fino a quando non raschi il fondo giusto